La rifezione scolastica riveste carattere essenziale per la prosecuzione delle attività didattiche e rappresenta un servizio rinunciabile per gli alunni che frequentano le classi con moduli a tempo pieno e prolungato. Per questi motivi il Comune di Brindisi ha confermato la ditta serenissima ristorazione sino alla fine dell'anno scolastico in corso e quindi fino al prossimo 30 giugno. La proroga spiegano a Palazzo di Città si è resa necessaria sino alla conclusione della procedura avviata alla fine dello scorso mese di marzo per la scelta del nuovo appaltatore. Diversamente non si poteva fare per evitare un danno grave all'interesse pubblico e per assicurare il principio del buon andamento relazione amministrativa affermato anche a livello costituzionale con l'articolo 97. La società serenissima con sede a Vicenza che svolge il servizio dal 2018 di conseguenza proseguirà alle stesse condizioni assicurando la produzione di pasti nel centro di cottura di proprietà dell'amministrazione comunale in via Basento e somministrerà i pasti nelle scuole primarie, materne e secondarie di primo grado e nel nido del rione Paradiso. Quanto al nuovo capitolato speciale di appalto approvato il 26 marzo, il Comune ha previsto un aumento del prezzo base per il singolo pasto da 4,27 euro a 5,74 euro, compresa per un totale di oltre un milione e mezzo di euro a fronte di 300.000 piatti l'anno. Il ritocco all'insù si è reso necessario per l'aumento del costo della vita, secondo gli indici Istat, e per quello dei costi di produzione, dalle materie prime a quelli per l'energia elettrica e per i trasporti. Non ci saranno variazioni per i ticket a carico delle famiglie, l'orientamento politico del centro-destra e mantenerli invariati per il prossimo anno scolastico, nonostante il bilancio non goda di ottime condizioni dal punto di vista economico-finanziario.